Nel consueto punto settimanale sull'emergenza Covid, Vincenzo De Luca rivendica l'efficienza della macchina organizzativa regionale nel contrasto alla pandemia e sottolinea che la Campania ha toccato il nuovo record di vaccini somministrati in un giorno 70.000. Complessivamente invece sono 4 milioni le persone immunizzate. Poi l'appello ai tanti napoletani che ancora non si sono iscritti in piattaforma. Mancano all'appello a Napoli 300.000 cittadini nella fascia di età superiore ai 12 anni, quindi nella fascia di età interessata alla vaccinazione. Abbiamo vaccinato ad oggi con la prima dose 450.000 cittadini, il 54%. Bisogna fare uno sforzo ulteriore. Nessun anticipo come avvenuto per altri territori, la Campania sarà zona bianca solo il 21 giugno, così come previsto dal piano nazionale. E dopo il boom di prenotazioni prosegue la Campania nella Villa Floridiana. Un'ottima adesione, più di quanto ci aspettassimo. Da un lato ci sono persone prenotate con l'open day che ha fatto l'ASDA su tutte le postazioni aziendali. Dall'altro stiamo accogliendo chiunque venga qua che deve fare prima dose con Pfizer. Sul fronte Covid, nuovo leggero calo della curva dei contagi che si attesta al 2,2% con 199 positivi. È il dato più basso negli ultimi otto mesi di pandemia. Nel report giornaliero dell'unità di crisi si contano anche 11 decessi e 648 guariti.